Allenamento di rifinitura a Coverciano stamani per il Pescara che domani alle 15 sfiderà all'Ardenza e il Livorno con l'obiettivo di centrare la prima vittoria del nuovo anno. Senza Brugman e Campagnaro, Pillon ha confermato che sarà Canutè ad agire in regia, mentre per la difesa resta in piedi il ballottaggio tra Ciofani e Balzano col primo favorito. Memuschai non è al meglio e il tecnico di Preganziol rischia di dover rinunciare a due terzi del centrocampo titolare. Nel caso Macin e Melegoni saranno le mezze ali, mentre non ci sono dubbi per l'attacco toccherà ad Antonucci, Mancuso e Marras. Partirà dalla panchina Alessandro Bruno che indosserà i panni freschissimi dell'ex, stesso discorso sul fronte Livorno per Thomas Kupisch, il giocatore prelevato in settimana dall'Ascoli non sarà subito titolare. Il tecnico Breda sarà privo di Dainelli, certi nella difesa 3, Bogdan e Gonnelli, Gasbarro favorito su Di Gennaro. In avanti Giannetti è insediato da Murilo per giocare al fianco di Rajcevic, alle loro spalle l'asso Diamanti. Con Breda in panchina e subentrato a Lucarelli a inizio novembre, il Livorno ha collezionato 10 punti in 8 partite. Non perde le 5 gare e si è rimesso in carreggiata per la lotta salvezza. Pilon, ex della gara, presenta così gli avversari. Sarà una partita molto difficile, io conosco l'ambiente, ci sono stato lì, sì che so che in questo momento qui il pubblico si stringe attorno alla squadra. Sarà tosta, hanno dei giocatori molto di esperienza, una squadra molto esperta della categoria. Con un giocatore secondo me che fa la differenza, che è Diamanti. A Guamo è difficile andarci perché non ti dà riferimento. Cioè va per tutto il campo, si sposta a destra e a sinistra, non è che tu puoi scombusolare tutta la squadra per un giocatore. In squadra bisogna. Sì, cercando quando entra nella sua zona, la palla, essere molto bravi e attenti in quelle situazioni. Sapendo che lui al limite all'aria ha un buon tiro, il piede sinistro, cercare di coprirlo bene. Insomma su questo ne abbiamo parlato, abbiamo preparato un po' anche queste situazioni qui. Sul fronte a mercato è fatta per l'arrivo nei prossimi giorni di Riccardo Sottilli, in prestito dalla Fiorentina, mentre Cristian Capone sembra destinato a tornare all'Atalanta. Resta aperta la caccia al centroavanti, sfumati Rossi e Tuminello e con Scamacca bloccato dal Sassuolo, nelle ultime ore è venuta fuori l'idea di un ritorno, quello di Emanuele Calaiò, e si torna a parlare anche di Daniel Ciofani, che poi non si è accasato la Crevonese e che a Frosinone è chiuso dall'arrivo di Trotta. Richiesta alta però quella del club Ciociaro. Su questi profili il presidente Sebastiani lavorerà negli ultimi giorni di mercato. Se non ci saranno nuovi arrivi, Monachello resterà a Pescara.